Figli cari, eccomi ancora qui in mezzo a voi. Grazie di questo incontro che deve essere soprattutto un incontro d'amore. Quando capiranno gli uomini che solo l'amore salva il mondo? Figli, diffondete l'amore, praticate la carità, poiché chi è nell'amore è in Dio, e fuori dell'amore non c'è salvezza. Amatevi a vicenda, aiutatevi e perdonatevi, compatitevi nei vostri difetti e nascondete i difetti degli altri, mentre vi sforzerete di vedere ciascuno i vostri. Non dimenticate che la madre del divino amore vuole che da questo luogo parta una scintilla di quel fuoco divino che deve divampare dovunque. Vi benedico, figli, con tutte le vostre intenzioni, e vi prometto il mio aiuto e la mia protezione. Diffondete il rosario, formate dovunque dei piccoli cenacoli dove io, con la mia presenza, spargerò le mie grazie e perfezionerò la vita cristiana di ciascuno. Gesù, ti prego, parlami. «Figlia mia diletta, è mia delizia stare nel tuo cuore. Sono unito a te come il ferro rovente è unito alla fiamma che lo riscalda. Dilato il tuo cuore, perché con me vogliono albergare il Padre e lo Spirito Santo. Sì, poiché avviene proprio così per chi ama me. La Trinità dimora nei cuori amanti di Dio. Tu senti sensibilmente, ma, anche se non sentono tutti, è una dolce realtà quella di cui ti ho parlato. La vita della Trinità è vita d'amore, che arde eterna senza consumarsi, senza modificarsi, vita d'amore sempre nuovo, sempre immutabile. L'amore che lega le tre persone fra loro, è la figura dell'amore che deve unire nelle famiglie i coniugi fra loro e i figli, è l'amore che deve unire tutti gli uomini. Pensa spesso alla vita d'amore che lega la Trinità Beata, e sentiti tutta pervasa da quest'amore. Rimani in esso e adora, poiché questo amore è Dio. Signore, mi hai creata per amore, redenta per amore, santificata per amore. Che cosa posso fare per ricambiare tanto amore? Figlia mia, hai ricevuto la vita come dono d'amore. Non sciuparla. Vivila, minuto per minuto, per il tuo Dio. Non dimenticare che la riconoscenza per i doni ricevuti è segno di delicatezza d'animo ed è un dovere per tutti. Io ho pensato a te. Sei stata redenta per amore e con grande sacrificio. Pensa che, se anche tu fossi stata sola al mondo, io sarei stato ugualmente contento di morire per salvarti. Da tutta l'eternità io ho pensato a te e, durante la mia vita mortale, tu formavi l'oggetto delle mie aspirazioni. Istituendo la Santa Eucaristia, pensavo ai nostri incontri. Istituendo il sacramento della confessione, pensavo alla gioia di poterti perdonare. Quando alle nozze di Canaan la madre mia mi sollecitò il primo miracolo, pensavo al tuo matrimonio, ai tuoi figli, alla tua devozione verso la madre mia, per cui l'avresti costretta ad operare miracoli. Quando sulla croce, come già nel Gezemani e sul Calvario, soffersi i pene atroci, pensavo alle tue sofferenze che io avrei avvalorate coi miei meriti, e questo pensiero mi procurò coraggio e mi aumentò il desiderio di morire per te. Quando, dopo la risurrezione, salii al cielo, pensavo già al giorno in cui anche tu saresti stata messa a parte della mia gloria e della mia gioia. Come risponderai a tanto amore? Forse che resterai ad aspettare, con le mani in mano, che il Signore ti venga a prendere per portarti con sé? Ricorda bene, figlia cara, e dillo a tutti. Colui che ha creato il cielo, la terra e te stessa, senza il tuo aiuto, non ti salverà senza il tuo concorso, senza la tua volontà, senza il tuo aiuto. Coraggio e all'opera. Fa che la redenzione non sia vana per te. Usa di tutti i mezzi che il Signore ti dà, per corrispondere alla divina chiamata. Impegnati per testimoniare me, la mia verità, il mio Vangelo, dinnanzi agli uomini.